buona sera e benvenuti a questa edizione speciale del tg la regina elisabetta si sfava poi perché si chiami elisabetta visto che inglese si dovrebbe chiamare elisabeth comunque andiamo a vedere il servito ora che se principio io a sfavarmi su vedi quella che era una serpa io ne le dissi subito ne le dissi è una serpa lasciala fare vai via e di campigana e l'uduro dice dice nando la mia garba lascia ne le fare gliene dissi con questa fazzizzare ci manca tutti in rovina e di fatti c'è visto ma po' sudica fettevola facessi il sugo e mi vogliono insegnare a me come si fa a fare il sugo dice il soffitto la non ci va ma che tu ne sai e qui ma il malucco l'erri e che fa che dice che fa la bacchetta e la comanda e le piglia e un se ne fa proprio e un se ne fa proprio e si fa comandare la bacchetta e tu vedi come se lo faco come se lo faco io e tu vedi antezzo accidenta qui si aspetta ma ora le cambio alle musiche e tu vedi c'ho il latta ginocchi il latta ginocchi mi hanno fatto arrivare accidenta quella serpa dice ora vogliono andare in canada e ma a verno gli mando io in vetta a verno e trovata una cacina a verno gli mando lei in canada una sega lascia un like anche alla nuova pagina il bellini